Il caso Papa che è al nostro esame nella Giunta per le Autorizzazioni è un caso naturalmente delicato, ma che ai nostri occhi è un grave fatto in contrasto con l'etica pubblica innanzitutto. Tutta l'Italia della P4 fatta di dossier, di ricatti, di rivelazioni, di segreti, di richieste, di favori, di vantaggi, indebiti è un'Italia che non ci piace. Nel caso dell'Onorevole Papa ci sono anche reati come quello di concussione, di rivelazioni di segreti d'ufficio ed altri che sono molto ben provati negli atti inviati dal GIP di Napoli. Un giudice delle indagini preliminari che si mostra equilibrato, che è anche spesso critico con la Procura, che dissente dalla Procura, che non accetta richieste della Procura, si mostra autonomo, indipendente e i fatti sono molto motivati. Ci sono comportamenti, fatti apparentemente minimi che però sono indice di una qualche attitudine a delinquere. Papa usa cinque o sei schede telefoniche di altri per telefonare, quindi sotto copertura, altri pagano la bolletta, ma normalmente una persona rappresentante di istituzioni si comporta così, ha paura di telefonare sul proprio telefono, deve usare schede taroccate, date illecitamente. Già questo comportamento credo sia indice di una condotta che è seria dal punto di vista delle responsabilità penali e certamente contraria ad ogni etica pubblica. C'è una sorta di associazione a delinquere, così si ritiene, tra quattro persone, Papa, Bisignani come sappiamo, altri due pubblici ufficiali come la Monica che è un maresciallo dei Carabinieri, Nuzzo, un agente di polizia giudiziaria, il tutto volto a fare pressioni, ad utilizzare notizie ricevute o rivelate indebitamente, a estorcere vantaggi, case in affitto, favori, eccetera. È molto difficile autorizzare l'arresto di un parlamentare, noi lo facciamo con senso di responsabilità, però francamente non vediamo il fumus persecuzionis, non vediamo un atteggiamento di persecuzione nei confronti di Papa per ragioni politiche, vediamo un'Italia invece che non ci piace, dei reati di una certa gravità che devono essere naturalmente meglio dimostrati nel processo, il quale noi auguriamo che tutti si difendano e che lo stesso Papa possa essere assolto, ma questa Italia non ci piace, non siamo per i privilegi della casta, non vediamo persecuzioni, vediamo invece fatti che devono essere seriamente accertati dalle magistrature.